Ciao raga, bentornati sul mio canale YouTube, oggi torniamo con un tutorial, infatti è stato plebiscito popolare praticamente sotto al video della partita in cui abbiamo analizzato la sconfitta di Anders, in WL la sua prima, su quelle che sono le skill cancellate, una meccanica abusata da parte dell'avversario del piccolo danese e che giustamente mi avete chiesto che volete vedere come si va ad eseguire. Quindi eccoci qua, anche se un video di questo tipo l'avevo già fatto, però l'esposizione del canale era sicuramente minore, quindi senza problemi lo andiamo a rifare e in più lo andiamo ad ampliare perché ci andiamo a mettere quelle che sono le crocchette e le meccanica di spin cancellate, quindi le due skill maggiormente abusate da parte di Dame, questo è il nome dell'avversario che appunto è riuscito in questa impresa. Questo lo faremo pad alla mano in arena, quindi andando a vedere i tasti da schiacciare e poi con situazioni di gameplay in cui è maggiormente conveniente utilizzare questa meccanica. Quindi passiamo subito sulla schermata di giuoco dove ci attende il nostro cristiano. Innanzitutto volevo chiedervi un attimino scusa perché purtroppo non riesco a far apparire più il pad a schermo, ho cambiato il cavo, ho cambiato il pad, niente, il pc non ne vuole sapere, quindi non potrò farvi vedere i tasti a schermo ma cercherò di guidarvi con la mia voce. Partiamo dalla crocchetta, crocchetta che si realizza in maniera universale, quindi che abbiate alternativo, classico, personalizzato, due tasti, pippo, pluto, paperino, le configurazioni che meglio credete si fa sempre L1 più destra o sinistra a seconda di dove state andando. Crocchetta che dopo FIFA 19, quando è stata introdotta bene o male, conoscete tutti ed è molto semplice da eseguire, è come fare L1 più una suolata, quindi molto molto easy. A questo punto dobbiamo andare ad eseguire quella che è la meccanica del cancellare la skill. Come si cancellano le skill? Le skill si cancellano schiacciando L2 più tasto della corsa, quindi io corro con R2 e schiaccio L2 più R2, un altro corre con R1 e schiaccia L2 e R1, quindi molto semplice. L2 per tutti più tasto della corsa. Quindi ci vogliono in realtà un po' i tentacoli per cancellare le skill, ecco non è semplice, soprattutto all'inizio schiaccerete mille tasti e magari anche io qui farò dei piccoli fail perché su play le mie dita con un dito praticamente li tocco tutti perché il pad è minuscolo, non mi ci trovo. Però vi assicuro che col tempo è un qualcosa che riuscirete a masterare tranquillamente. Quindi per poter cancellare la crocchetta cosa andiamo a fare? L1 più destra-sinistra e quando parte l'animazione schiacciamo L2 più bar R1 e R2, quindi molto molto semplice. Parte la crocchetta e la cancelliamo. Avete visto come l'animazione della crocchetta si è arrestata? Ve lo faccio rivedere. L1 destra-sinistra più R1 e R2, vedete come si è fermato il buon Cristiano? Quindi questo per quanto riguarda il cancellare la crocchetta. Banalissimo, serve solo un po' di allenamento, poi tra qualche minuto andiamo a vedere gameplay alla mano a cosa serve. Per quanto riguarda la meghidi spin, anche qui abbiamo però bisogno di un giocatore con 5 skill perché la meghidi spin è la variante 5 skill della berba spin. Quindi praticamente l'animazione che andremo a realizzare sarà questa. Questa è una meghidi spin. Come si performa la meghidi spin? Molto semplice. Si va a fare muovendo quelle che sono le levette realizzando un angolo retto. Non stiamo parlando di geometria, però se stiamo andando verso destra facciamo destra più sopra o destra più sotto, a seconda di dove vogliamo andare. Quindi una L, un angolo retto. Banalissimo. Da quest'altro lato stessa cosa, eccetera eccetera. Insomma non sto qui a farvi vedere come si fa in ogni lato perché è ridondante. Per quanto riguarda il cancellare la meghidi, qua è un problema. Perché oltre a schiacciare L2 più R1 R2 bisogna andare anche a muovere la levetta nel lato opposto. Quindi vi faccio vedere. Voi performate la meghidi, fate L2 più R1 ma se andate verso destra, mentre schiacciate L2 R1 R2 dovete andare con la freccetta verso sinistra. Quindi esattamente così. Aspettate un attimo che mi sto inciacicando con le dita. Eccoci qua. Voi andate verso destra, muovete l'analogico sinistro in questo caso verso sinistra e voilà. Cambia direzione rapidissimamente il vostro giocatore. Fateci caso, fateci caso. Questa qui, se performata, cancellata, vedete, è una sorta di dragback. È come fare un dragback rapido. È quasi come il dragback dell'anno scorso. Quindi già qui vi vengono un attimino quelli che sono in mente gli utilizzi più utili, ok? Di questa skill qua. Quindi dopo avervi spiegato un attimino come fare queste meccaniche, andiamoci a vedere invece a livello di gameplay quali sono le situazioni più utili per andarle a utilizzare. Mi vado a rifare proprio su quella che è la partita che abbiamo analizzato di Dame contro Anders e ci andiamo a vedere appunto degli spezzoni. Eccoci dunque in game. Vedete qua. Questa qui che ha fatto con Neymar in questo frangente è proprio una crocchetta cancellata. Vedete? Lui, da che si trovava praticamente in questa posizione intermedia, con la crocchetta cancellata, si gira e fronteggia subito la porta in maniera rapidissima, col pallone praticamente attaccato tra i piedi. Quindi andiamo avanti. Guardate, lo rifà dopo due secondi. Lui sembra che va verso destra, va a fare la crocchetta cancellata, si gira immediatamente verso la porta. Quindi quando andare a applicare la crocchetta cancellata, ne cambi repentini di direzione per avere il pallone immediatamente per la disponibilità dell'attaccante. Qui ci poteva mettere un tunnel, un tacco-tacco, qualsiasi cosa che gli avrebbe poi permesso di andare ad aggredire questa porzione di campo con prepotenza. Ancora qui, palla che viene data a Pelé, questo caso crocchetta cancellata di nuovo. Guardate, lui sta praticamente in questa zona intermedia, si gira subito in perpendicolare, col pallone che rimane attaccato dal piede però. Non va a fare quell'animazione della crocchetta ampia col pallone che si discosta e quindi può essere facile preda degli avversari. Questa è veramente l'utilità maggiore e principale di questa animazione. Andiamoci a vedere invece quella che è la Meghidi spin annullata. Come vi dicevo è proprio un drag back, un drag back di FIFA 20. Guardate qui, lui va a fare la Meghidi cancellata, si gira anche qua in un fazzoletto e lascia l'avversario sul posto. Si va poi a buttare in area, ancora una volta, arriva poi a concludere ma la palla viene rimpallata. Andiamo ulteriormente a analizzare questa meccanica qui. Guardate, lui praticamente ha l'avversario alla sua destra, gli finta la Meghidi e si gira immediatamente con un drag back. Guardate qui, perché lui sembra prender campo verso questa direzione ma cancellandola cambia subito e va verso destra. Guardate Adama come rimane sul posto, prende campo, arriva in questa zona, vabbè, fortunato poi nel rimpallo, palla che viene ceduta qui, qua fa un'altra Meghidi cancellata e questo è un capolavoro perché guardate quanto era difficile. In questa direzione lui riceve palla, fa la Meghidi cancellata, si gira e calcia subito di sinistro. E guardate il movimento, raga, sembra quello di un drag back praticamente, solo che sappiamo tutti che il drag back quest'anno è stato rallentato. Questo è un drag back come quello dell'anno scorso, quindi assolutamente letale. Qui ancora una volta, guardate, sta fronteggiando l'avversario, fa la crocchetta, ma invece di andare a concludere quella che è l'animazione che magari gli avrebbe portato la perdita del pallone, lui si gira subito, quindi con la palla attaccata al piede, poi va a fare anche una Meghidi cancellata per lasciarlo ulteriormente sul posto, va a dare poi palla dentro. Ancora una volta, guardiamo quest'altra situazione, crocchetta cancellata per girarsi e prender campo, allontanarsi dal portatore di palla, va a scaricare su Pelé 1-2 nella zona di Maximen, ancora una volta qui, poi palla data dentro, Meghidi cancellata 1, Meghidi cancellata 2, però stavolta Anders riesce a togliergli il pallone. Quindi avete capito bene o male quali sono le situazioni principali nelle quali andare a utilizzare queste meccaniche, ecco, quindi crocchetta per girarsi avendo il pallone attaccato al piede, andando dunque a togliere quel problema della crocchetta dell'allungamento del pallone, Meghidi cancellata che vi permette di fintare di andare da un lato per andare immediatamente dall'altro e lasciare ancora di più l'avversario di stucco. Quindi due skill molto 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 utili, mi raccomando ci vuole un po' di pratica, perché vi ripeto ci vogliono delle mani tentacolari, però se masterate entrambe date un bel impulso al vostro gameplay. Quindi raga, per quanto riguarda questo tutorial è tutto, io come al solito vi ringrazio per la visione, se siete arrivati fin qui vi ricordo di lasciare un like, un commento, iscrivetevi al canale, in descrizione trovate tutte le info per quelle che sono le live giornaliere sulla piattaforma Viola, è nuda ragazzi, io vi auguro una buona giornata, un saluto al vostro Liberoschi, ciao ciao!